Salve a tutti, oggi vedremo come trasformare un utente di Windows 7 da utente standard, utente amministratore e viceversa Per farlo dobbiamo andare in pannello di controllo, dopodiché andiamo su utenti protezione famiglia, account utente Dopodiché abbiamo il nostro account e come vedete qui c'è modifica tipo di account Premiamo su modifica di tipo account, ora siamo di tipo amministratore, quindi abbiamo tutti i privilegi di amministratore Quindi sulla sicurezza eccetera, comunque se guardate questo video molto probabilmente sapete di cosa parlo Possiamo portarlo a account utente oppure se siamo utenti standard a account amministratore In questo modo, quindi procediamo e premendo su cambia tipo di account avremo cambiato il nostro tipo di account Quindi per questo video è tutto, alla prossima